Le manifestazioni di piazza che nell'ultima settimana, nelle ultime settimane si stanno svolgendo in tutta Italia, a partire dalle manifestazioni e dallo sciopero dei portuali di Trieste per arrivare alle manifestazioni che vengono fatte a Milano, ormai da diverse settimane nei giorni di sabato e anche a partire dagli scioperi che ci sono e che continuano ad esserci da parte dei portuali di Genoa e anche di altri porti, le manifestazioni che ieri ci sono state a Roma da parte di diversi movimenti contro l'impostazione ipotetica che il G20 può dare al problema climatico. Ecco, tutto questo manifestarsi si può definire una manifestazione della lotta di classe. È un problema serio perché qui si rischia di confondere i piani. La lotta di classe vede il contrapporsi di due classi, ma attraverso la contrapposizione di tutte le classi intermedie che vanno dal proletariato, dalla classe del proletariato, alla classe del capitalista. Non possiamo dire che si tratta di vere e proprie lotte di classe. Perché? Perché vi è ormai la convinzione, e me ne rendo conto nel parlare, giattare di persone e quindi anche virtualmente, attraverso messaggi, notifiche, insomma, quello che avviene ora. Che non si ha più idea di che cosa sia la lotta di classe, di come si concreta, di come diventa concreta la lotta di classe. La lotta di classe comincia con una lotta per l'aumento salariale, tanto per cominciare. E questa lotta per un aumento del salario, o anche per migliore condizioni di lavoro, è una lotta che deve diventare cosciente nel lavoratore. Deve essere cosciente il lavoratore della lotta che sta compiendo, dei mezzi intellettivi che il lavoratore ha, rispetto ai mezzi intellettivi del capitalista, cognitivi di conoscenza che ha il capitalista. Il lavoratore di fronte diretto, il confronto diretto tra il datore di lavoro e il lavoratore, sostanzialmente si basa sul fatto che la maggior parte dei lavoratori hanno ignoranza delle leggi, che già ci sono, e quindi possono sottostare a condizioni di lavoro e a salari inferiori a quelli che la legge, i diritti, la legge, tutta la condizione normativa predispone per il lavoratore. La mediazione affinché questo avvenga, quindi la mediazione affinché il datore di lavoro rispetti, ad esempio, un contratto nazionale di lavoro concretamente, quindi nel quotidiano del lavoro, avviene attraverso il sindacato. Ed è qui il primo punto della questione. Se vi è la mediazione del sindacato, il lavoratore perde coscienza di classe, perché la coscienza di classe si acquisisce nella lotta. Non ci può essere una coscienza di classe se non si partecipa ad una lotta, se non si partecipa alla lotta. Per cui alcuni dei manifestanti, vedi Stefano Puzzeri, Portuali, gli scioperanti, formano la loro coscienza di classe nella lotta e in qualche senso sanno quello che stanno facendo. E allora tutti gli altri manifestanti, che scendono nelle piazze, no Green Pass, no ad un controllo sistematico degli algoritmi sugli esseri umani, non stanno facendo una lotta di classe, si stanno rivoltando contro un sistema. Ma, per così dire, il polo al comando di questo sistema è invisibile, non c'è. Non esiste, non c'è, è intoccabile, è irraggiungibile. Ecco perché questo tipo di manifestazioni, fatte in questo modo, quindi senza senza la forza della lotta di classe, senza la forza del lavoratore che sta dietro, può semplicemente confluire in un amorfo movimento politico che, con il passare dei mesi, si può concretizzare nella formazione di uno o più partiti politici, nuovi partiti politici. Bene, è quello che sta avvenendo con Ancora Italia. Ancora Italia sta costituendo, Ancora Italia è un paese, è il partito dove confluiranno una parte di voti degli scontenti. Ma questo non significa fare una lotta di classe, significa tra virgolette fare una politica di tipo parlamentare, quindi sarà costituito un partito, o quello o un altro, sarà costituito un partito, varrà in Parlamento, conterà niente e intanto verrà canalizzata tutta questa, una parte almeno di questo tipo di protesta. Conclusione, non si otterrà nulla, non cambierà il sistema, non cambierà niente, tutto rimarrà come prima. Allora la lotta di classe è una lotta tanti sistema che si concretizza sia nel quotidiano sia in forme di organizzazione di lotta che se diventano immediatamente di tipo parlamentare non portano a niente. Ora io dico parole che potrebbero anche in un certo senso essere considerate tra virgolette eversive. Perché? Quelle che sto per dire. la lotta di classe non può che essere extraparlamentare. Non ci può essere una lotta di classe che aspira a diventare un partito politico, che aspira ad entrare in Parlamento, perché il peso di una tale lotta non significerebbe nulla. Quindi la lotta che bisogna promuovere è una lotta di classe extraparlamentare che troverà il modo di imporre alcune scelte alla politica che è già presente. quindi è necessaria una lotta di classe extraparlamentare che non ha di mira il il sovvertire la Costituzione, ma che ha di mira il farla rispettare. Primo articolo della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ora mettiamoci bene in testa che questo articolo dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non dice l'Italia è una repubblica fondata sul capitalismo, ma sul lavoro. Ora molti dei manifestanti di questi giorni, fino a ieri al G20, gli studenti, chi sono quelli di Milano, alcuni di Trieste? Chi sono queste persone? Come ho già detto in altri video, una parte di queste persone appartengono già al sottoproletariato, cioè gente che vive con il reddito di cittadinanza, con la disoccupazione, è gente che non lavora. Poi c'è una parte delle piccole partite IVA, piccoli imprenditori, che stanno per essere proletarizzati dal sistema, quindi persone che fino ad un mese fa riuscivano a fare gli imprenditori, fino ad un anno fa, prima del Covid, riuscivano a fare gli imprenditori, ora non ci riescono. Non ci riescono più per il Covid, principalmente, che ha aumentato, ha accelerato quello che prima era in corso, quindi questo processo di proletarizzazione. Poi c'è una parte di gente che lavora nell'amministrazione pubblica, la parte di insegnanti, però non sono ad occhio, sono tutte delle valutazioni che io faccio così, da quello che riesco a capire, ad intuire, da ciò che vedo. E poi ci sono dei lavoratori operai stipendiati che hanno come primo obiettivo non condizionare la propria, il proprio lavoro, quindi il proprio stipendio ed il proprio salario, non vogliono condizionarlo al Green Pass, ok? Per una loro libera scelta. Il problema, quindi, è che la bandiera del no Green Pass sta diventando, il no al Green Pass sta diventando una bandiera per tutto questo disagio, che è disagio sociale, ma che è fondamentalmente un disagio di tipo economico. che cosa manca in tutto questo? In tutto questo manca, appunto, la coscienza di classe. Ma qui è il cane che si morde la coda. La coscienza di classe vi può essere soltanto lì dove c'è una lotta di classe. Non ci si può formare la coscienza di classe a tavolino leggendo i libri, a meno che questi libri e questo tavolino non facciano parte della lotta di classe. La soluzione non è trovare, fare l'ennesimo nuovo partito politico per non ottenere nulla. La soluzione è attraversare la politica con la lotta di classe per pervenire ad un rispetto letterale della Costituzione. Quindi una lotta di classe extra parlamentare che abbia come obiettivo il rispetto letterale della Costituzione. E quindi, ripeto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Non c'è scritto l'Italia è una repubblica fondata sul capitalismo, ma sul lavoro. Il lavoro è il primo valore per la nostra repubblica. Ed è il lavoro che deve essere rispettato. È il lavoro che deve essere in qualche modo garantito. Al di là delle leggi del capitalismo, al di là di quello che dice le leggi del capitalismo. Il lavoro. E quindi il lavoro significa occupazione. Piena occupazione. Questo determina il senso di una vita. Bene. Come si fa? Come si fa a formare la coscienza di classe? La coscienza di classe si forma, il primo briciolo di coscienza di classe, si forma con la coscienza di essere sfruttati. Ma non si è semplicemente sfruttati da i poteri occulti. E questo è il punto. Si è sfruttati da ciò che incarna il sistema capitalistico del proprio dottore di lavoro. E questa è la lotta di classe. È molto semplice, ma scandaloso dirlo. La lotta di classe, nella sua più semplice concretezza, è la lotta tra lavoratore e datore di lavoro. Perché diventa lotta di una classe? Perché vi è una classe di lavoratori che non hanno contatto con chi fornisce loro il corrispettivo del loro lavoro, il capitalista. Ma c'è tutto una mediazione di classi intermedi. Dagli amministrativi, gli impiegati amministrativi che fanno le buste paga, a, che ne so, nelle fabbriche a quello dei tempi e metodi, che misurano, eccetera, eccetera. No, è tutto questo la scala. Quindi la lotta di classe deve attraversare pure, come lotta, la lotta tra l'ultima pedina e l'impiegato all'amministrativo. Se no, non è lotta di classe. Fino a quando anche l'amministrativo ha coscienza della lotta di classe. Poi se ne pente, avremo l'81, la marcia dei 40.000, e da lì comincia una lenta rovina che arriva fino a noi, che arriva fino ai nostri giorni. Perché parlare, perché fare, diciamo, dire queste cose che sembrano banali? Perché ormai si parla soltanto dei grandi sistemi del capitalismo. Dei grandi sistemi del complottismo. Si parla semplicemente di ombre. Chi ascolta tutto questo si imbriaca, è ubriaco, ubriaco da complottismi, ubriacato da un sistema di pensiero che non fa vedere, che non fa prendere coscienza della concretezza di una lotta. Quindi la lotta deve essere sempre concreta, quasi banale, quotidiana, e naturalmente comporta un sacrificio per il lavoratore. Ma quel sacrificio del lavoratore che si esplica nello sciopero, ecco, quel sacrificio del lavoratore che va ad incidere sui diretti interessi economici del capitalismo, è l'unica cosa che conta. È l'unica cosa che conta. Il capitalismo, arrivato ad un certo punto, si anestetizza alle manifestazioni. Potete manifestare finché volete, possiamo manifestare finché vogliamo, ma non saremo ascoltati se non va tutto questo ad incidere sul danno economico che bisogna apportare al capitalista. Tutto questo non ha alcuna importanza se tu non incidi economicamente sul sistema del capitale. Ora, naturalmente, come si accorsero già nell'Ottocento, ma oggi non se ne accorgono, e oggi che ci possiamo fare, non se ne accorgono, è necessario per portare a termine una lotta del genere l'internazionalismo. Senza l'internazionalismo non si arriva da nessuna parte, perché dopo un po' un'industria nazionale viene sostituita facilmente da industrie di altre nazioni. Senza l'internazionalismo non si va da nessuna parte. Questo è il punto. Si ferma il porto di Trieste e stentano a fermarsi gli altri porti italiani. Ma qui ci vorrebbe un fermo del porto di Trieste, un fermo del porto di Rotterdam. Perché la cosa comincia ad essere veramente pesante. E non soltanto il fermo del porto di Trieste per ciò che riguarda le merci, ma il fermo dell'oleodotto del porto di Trieste. Perché anche lì c'è chi lavora affinché i flussi di petrolio dall'oleodotto non siano interrotti per la Germania. Basterebbero questi due porti, due seri scioperi su questi due porti affinché non si parlasse più di Green Pass. Vedete come tornano indietro subito. Bastano due giorni di sciopero su questi due porti, ma che siano due scioperi completi affinché tutto finisce. Il Green Pass non se ne parlerà più. Perché da una parte verranno interrotti i flussi di petrolio alle sette raffinerie tedesche che danno il 40% di energia all'Europa. e dall'altra verranno interrotti i flussi di merci, banane, ananas e tutto il cibo che viene da tutte le parti del mondo per rifornire le tavole degli europei. Questa è la verità. Con un internazionale di sciopero in questo momento del Green Pass non se ne parlerà più né in Italia né in nessun'altra parte d'Europa. Statene certi, statene sicuri. Perché si ferma tutto di nuovo. Allora, per non far fermare tutto la lotta raggiungerebbe il suo obiettivo in brevissimo tempo. Il punto qual è? Il punto è che in un modo o nell'altro i portuali di Rotterdam dico Rotterdam devono essere coi volti. Perché altrimenti chi ne fa le spese saranno soltanto gli italiani. e in seguito a questo in seguito a questo si formeranno appunto dei nuovi partiti politici questi nuovi partiti politici faranno convogliare la protesta andranno a finire in un partito che non conterà niente e tutte le cose rimangono come sono. Non cambierà nulla. Quindi, un messaggio due messaggi fondamentali da questo video. Uno cercare di capire bene che se non c'è una lotta di classe tutte queste manifestazioni non porteranno a nulla. Due affinché la lotta di classe sia una vera lotta di classe qui è necessario coinvolgere anche gli operai delle altre nazioni europee. in particolare in questo caso dato che si è cominciato con i porti che si coinvolga il porto di Rotterdam. In un modo o in un altro i portuali di Rotterdam devono scioperare. Uno sciopero completo di Trieste e Rotterdam farà sì che del Green Pass in Europa non se ne parlerà più. Manco per scherzo ne parleranno. Vi ringrazio alla prossima prossimo video.